Eccocci qua, eccoci qua. Non arrivo in bicicletta perché sarebbe complicato portarla su, però poi vi spiegherò di cosa si tratta. Per cominciare però voglio fare un passaggio brevissimo, un ringraziamento ai ragazzi meravigliosi, devo mettermi qui su, ai ragazzi meravigliosi che hanno organizzato questa splendida iniziativa, splendida. Io ieri sera ero a cena con loro e gli chiedevo di spingere queste iniziative e portarsi oltre perché abbiamo bisogno di innovare il racconto di Taranto, di questa città e questo è un modo per farlo, molto concreto. E poi due passaggi, due ringraziamenti. Io parlerò sempre al plurale perché io sono stato sulle nuvole e ci sono un po' di persone che mi hanno portato giù per rendere concrete le idee perché sulle nuvole si sogna, giusto Fabio? Sulle nuvole si sogna, poi c'è bisogno di tornare qui, essere pesanti. Ringrazio la mia famiglia, mia moglie, che è un punto fermo. E là in fondo c'è Luigi, Luigi Sergi, con cui abbiamo condiviso una parte lunghissima di questo percorso e spesso ci troviamo lì a fare i nostri voli e abbiamo bisogno di essere riportati giù. E quindi parto da qui e cito Primo Levi. Perché? Perché poi là dentro c'è una spiegazione importante. Era veramente idrogeno quindi, lo stesso che brucia nel sole e nelle stelle e dalla cui condensazione nascono in eterno silenzio gli universi. E' una folgorazione che abbiamo avuto anche avviando questo progetto. E parto poi pensando alla nostra più grande fonte di energia, il sole. E guarda caso, il sole è fatto di idrogeno. Fusione, scusate agli astrofisici, se dico corbellerie, ma io sono un po' più terra-terra. Nel senso che l'idrogeno è là dentro. E il sole, come abbiamo visto prima, emette questi fotoni che ci scaldano, ci scaldano e continuano a scaldarci. E questo fluido scorre e incontra l'acqua. L'acqua che fa? Sale. Sale però poi non può uscire da questo sistema, perché c'è una bolla, no? La bolla che la contiene. E guarda caso, lì in alto si formano le nuvole. E beh, io facendo questo percorso ho pensato che le nuvole sono, in questo caso, la nostra fonte di ispirazione, ma sono energia in movimento. E ho portato con me tre parole. Acqua, energia e ciclo. E immaginerete perché. L'acqua è un elemento essenziale nella nostra esistenza. E in questi momenti stiamo vivendo che cosa? Il pericolo della sua abbondanza, recentemente Livorno, è il pericolo della sua assenza, la siccità degli incendi. Eppure è un elemento di grande forza vitale. Ecco, per noi l'acqua è un elemento centrale in quello che siamo andati a fare. Perché l'acqua? Perché l'acqua è idrogeno e ossigeno. E questi due elementi, là dentro, si incontrano, ma sono degli elementi che danno vita. Solitamente quando qualcuno mescola un po' di idrogeno gassoso e un po' di ossigeno gassoso, non fa qualcosa di molto sano. Esplode. Energia. Abbiamo sentito parlare di come sono cresciuti, per esempio, le aspettative di vita. Prima vedevamo che l'acqua, la potabilità dell'acqua, ha incrementato le aspettative di vita. Bene, nello stesso periodo che ci faceva vedere la dottoressa Arti, dal 1820 al 2012, sino ad oggi, abbiamo moltiplicato per 25 i nostri consumi energetici. Ora, vuoto per pieno, siamo a circa 550 exa joule, una cifra mostruosa. E l'evoluzione però energetica, dei consumi energetici, in realtà ci ha dato stimolo, perché se noi guardiamo la vita dell'uomo e la sua evoluzione, ci rendiamo conto che da 120 mila anni fa fino ad oggi è sempre stata una continua ricerca di nuove fonti di energia, ma le nuove fonti di energia hanno reso possibili le evoluzioni. e quindi sembra quasi un ciclo, un ciclo che si insegue e va sempre a crescere. Tanti più saremo, tanta più energia avremo bisogno, di tanta più energia avremo bisogno. E guardate, dal 1820 circa, fino ad oggi, qual è stata la curva esponenziale della crescita dei consumi energetici. e questo ha reso inevitabile la ricerca di nuove fonti di energia. Ora sentiamo parlare di fotovoltaico, sentiamo parlare di eolico, ma la prima pala eolica nasce nel 1930, il primo impianto fotovoltaico nel 1954, non secoli fa, decenni fa. Bene, questo è un elemento che dobbiamo considerare e che sembra un fil rouge che sta seguendo un po' tutti i nostri interventi. La crescita, la crescita, la crescita. E il ciclo? Il ciclo per noi è un metodo, è un metodo che può avere periodi lunghi o brevi, ma, ecco, io ho parlato dell'acqua. La prima cosa che si insegna in una scuola elementare ai bambini è il ciclo dell'acqua. Quest'acqua che viene scaldata dal sole, che sale e poi ritorna giù come pioggia e riempie i fiumi, riempie i laghi, riempie i mari. Bene, il ciclo per noi è un elemento determinante in questo modello che ora vi presenterò. Ecco, da qui nasce hidrograsi. Hidrograsi per noi è un nuovo paradigma. È un nuovo paradigma che serve per sopperire i crescenti fabbisogni energetici, ma serve per sopperire anche la domanda esistente di energia. Noi possiamo cambiare le modalità di produrre energia, di consumare energia, non solo efficientando quello che abbiamo, ma producendo energia pulita. e tutto questo grazie alle tre parole che vi ho rappresentato prima. E sono l'acqua, perché il nostro ciclo si basa esattamente sull'elettrolisi dell'acqua. Ciclo, perché vedrete che abbiamo chiuso un ciclo in cui l'energia non esce se non per la minima parte. E' energia. E tutto questo noi lo possiamo applicare a vari settori. E ora vi mostrerò cosa abbiamo fatto. Lo possiamo applicare a vari settori e tutto a emissioni zero. è possibile, è una strada possibile. E allora ci siamo inventati una cosa. Si chiama Smart Box. È un nome banalissimo, ve lo posso garantire. Cioè, Smart Box, clicchiamo e ne vengono fuori milioni. No? Però questa si chiama Smart Box perché è una scatola intelligente. Ed è una scatola intelligente che fa. Fa esattamente una roba di questo genere. Immaginiamo di avere una bella casa con sopra il suo impianto fotovoltaico e nel momento in cui non consumiamo l'energia, ma l'impianto produce, invece di buttarla, ce la conserviamo, trasformandola in idrogeno. Dopodiché, quando l'impianto fotovoltaico non funzionerà più, perché è buio, noi metteremo in moto una fuel cell, una cella combustibile, che converte l'idrogeno in energia elettrica. E abbiamo sopperito al fabbisogno energetico nel totale periodo di vita di una casa. Ed è questo il ciclo. Noi abbiamo un prosumer, ci piace chiamarli non più consumatori, ma prosumer. Perché? Perché mettiamo in moto un'economia di scambio. Il produttore che diventa consumatore e scambia energia, ma sotto forma di idrogeno, non più sotto forma di energia elettrica, e vi spiegherò anche perché. Il prosumer che viene alimentato dalle fonti rinnovabili, quel ciclo di cui vi ho detto viene gestito dalla nostra smart box, e quindi l'energia non esce mai da questo ciclo, ma rimane là dentro. E questo, quello che avete visto, non è un ciclo teorico. È un ciclo che noi abbiamo realizzato qui a Taranto, realizzato in un sito industriale, nel sito industriale di Comes. E ora questo ciclo e questa smart box sono in funzione nel nostro impianto industriale. e serve per alimentare totalmente una stecca di uffici che ora sono sostenuti solo dalle fonti rinnovabili e dal ciclo idrogeno. Uno si domanda, vabbè, ma non potevi fare la stessa cosa con le batterie? Sì, però poi vi faccio vedere. Abbiamo pensato quindi che questo progetto possa ricadere molto bene in due ambiti molto interessanti per quanto ci riguarda. le aree rurali remote, che ora per lo più sono servite da gasolio, quindi sostituendo totalmente le emissioni di gas clima alteranti con fonti rinnovabili e con il sostegno dell'idrogeno, di questo power bank, chiamiamolo così, idrogeno. E nelle isole, ora pochi sapranno, ma fortunatamente anche il governo italiano ha deciso di investire denari su due progetti per le isole minori. Le isole minori sono sotto l'attenzione del governo italiano perché sono elemento in cui la generazione elettrica, che non fa bisogno, si consuma bruciando gasolio. e quindi le nostre fattorie o le nostre isole possono diventare benissimo un luogo di scambio, di condivisione, sharing economy. Quante volte abbiamo parlato, sentito parlare di questa modalità di scambio, di collaborazione, la cooperazione. La cooperazione per noi è importante, ecco perché è prosumer, non perché uno è consumatore e produttore per sé. Il prosumer collabora per definizione e quindi entra, anche ora una volta, nella rete. Entra nella rete scambiando, scambiando cosa? Scambiando energia. E ecco perché l'idrogeno e non le batterie. Perché l'idrogeno è versatile. Noi abbiamo idrogeno per alimentare, immaginate una fattoria, per alimentare i trattori a fuel cell. Quindi si elimina là il fabbisogno di gasolio per la trazione dei trattori e per il sostentamento dell'economia rurale. Si possono alimentare le auto a idrogeno e si possono alimentare anche le bici a idrogeno. Questa è una bicicletta, è un gioco che abbiamo voluto mettere insieme, ma in realtà è molto più di un gioco. È un gioco concreto. La nostra idea è che una bici elettrica e una bici a pedalata assistita sia una grande conquista per la mobilità delle persone, soprattutto nelle aree urbane. Bene, la nostra intenzione è aumentare la percorrenza, e lo abbiamo fatto, abbiamo triplicato la percorrenza di una bicicletta entry level natala, abbiamo triplicato la percorrenza con la pedalata assistita. E questo è grazie all'idrogeno che noi produciamo nel nostro sito e che ci ricarica una bomboletta che sta lì dietro e alimenta tutto il sistema per tenere in carica la nostra batteria. Certo, peserà, ora pesa un po' di più, ma la nostra idea è di far diventare quello un oggetto interessante di design, leggero e che possa essere applicato a una molteplicità di bici a pedalata assistita. Ecco perché l'idrogeno, perché questo con le batterie non lo avremmo potuto fare. E finisco con una piccola notazione. Green in the industries. Bene, noi viviamo un grande conflitto qui a Taranto. Noi possiamo lanciare un segnale molto forte, possiamo lanciare il segnale per cui è possibile rendere più compatibili le presenze inquinanti che emettono grazie all'uso di fonti rinnovabili e di idrogeno. Perché noi produciamo idrogeno solo da fonti rinnovabili. Ed è questa la chiave di volta. Non facciamo reforming di metano, perché chissà i grandi produttori di idrogeno producono dal reforming del metano, mentre noi utilizziamo solamente fonti rinnovabili. Bene, questo ciclo energetico vive qui a Taranto e ora siamo pronti per esportarlo, speriamo, nel mondo. Grazie per l'attenzione. Grazie a tutti.